Da Chiomonte, dove questa mattina ha incontrato il sindaco Renzo Pinard per fare il punto sulle necessità degli amministratori locali della valle, il presidente della provincia di Torino Antonio Saita sottolinea l'urgenza di far partire le opere di sviluppo del territorio che sarà attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Lione. Tra queste le priorità sono la metanizzazione del comune di Chiomonte e di tutti i comuni limitrofi e il potenziamento dell'impianto di risalita del Pian del Frais per il turismo montano locale. Inoltre il sindaco Pinard ha presentato a Saita il progetto di riqualificazione dell'albergo Vittoria di Chiomonte affinché possa ospitare le maestranze del cantiere. Il sindaco Pinard da mesi attende un incontro con esponenti del governo. È una visita che va alla ricerca della risoluzione dei problemi del comune di Chiomonte e della valle intiera su tutte le problematiche che nascono da questa nuova opera ferroviaria. Non si è parlato di politica per una volta tanto ma si è parlato veramente di fare, di fare le cose, di cercare veramente di prendere delle decisioni importanti per il nostro territorio. Abbiamo voluto incontrare oggi il sindaco in concomitanza con l'inaugurazione della stazione di Susa perché c'era la necessità di fare un po' il punto con il sindaco delle questioni che bisogna risolvere qui in connessione appunto con la realizzazione del tunnel. Abbiamo fatto un censimento delle questioni, quali sono gli ostacoli. È chiaro che noi come amministrazione provinciale siamo fortemente interessati alla realizzazione delle opere, degli interventi che il sindaco ha richiesto perché ci pare giusto che un'amministrazione che subisce un cantiere per parecchi anni abbia anche la possibilità di avere qualche ricaduto di carattere economico, perlomeno non avere assolutamente danni. Le richieste del sindaco sono ragionevoli e nei prossimi giorni vedremo le modalità concrete per dare delle risposte precise evidentemente insieme agli altri enti.